Un altro buco nell'acqua. La Virtus Lanciano infatti non riesce per la seconda volta ad aggiudicarsi una punta ad affiancare al giovane Primavera Simone Fioretti. Dopo Ducarà infatti, il cui arrivo era dato per certo e che invece si è accasato a Leeds, questa volta sono le visite mediche a far saltare l'accordo con Bruno Petkovic, che tornerà quindi al Catania. Un pizzico di sfortuna quindi per i rossoneri che erano sicuri di firmare l'attaccante croato. Adesso bisogna subito rimettersi in moto sul mercato e guardare altrove. Una soluzione potrebbe essere la Francia, nello specifico il Monaco, proprietario del cartellino dell'attaccante ventenne Gaetano Monachello, ma anche il Milan che detiene i cartellini degli attaccanti Ezechiel Antì, Giacomo Beretta e del centrocampista Marco Pinato. Ci sono poi contatti con il Verona per Pasquale De Vita e David Nicolas Andrade, portiere brasiliano che arriverà nelle prossime ore in terra frentana e che in teoria dovrà prendere il posto di Sepe, superando però la concorrenza del compagno di reparto Branescu, autore di una grande prestazione contro l'Avellino al trofeo Maio. E proprio nella partita contro l'Irpini va sottolineata la grande prestazione di Babatiam, doppietta per lui e quella di Bastola, in campo per 80 minuti e con due assist al bacio proprio per il senegalese. Per quanto riguarda la preparazione invece, domani pomeriggio ci sarà la ripresa degli allenamenti e si lavorerà sull'aumento dei carichi per preparare al meglio la squadra ad un campionato lungo e difficile come la Serie B ed evitare soprattutto scomodi infortuni.